Si chiama Red Line e ha l'obiettivo di promuovere le tradizioni e la cultura di San Gataldo. L'iniziativa, pensata dal gruppo Consigliare Le Spighe, è già in cantiere. San Gataldo si prepara a diventare un crocevia turistico capace di riscoprire le peculiarità e la bellezza di una città che si è sempre distinta per il proprio patrimonio culturale, afferma la consigliera Chiara Fulco, prima promotrice dell'ambizioso progetto. Mediante tour Fai da te continua la Fulco, i cittadini e i turisti potranno ammirare la città e godere delle ricche tradizioni che la caratterizzano. Una vera e propria linea rossa, quella che potranno seguire i visitatori nel loro percorso di conoscenza della realtà san Gataldese. La cosiddetta Red Line potrà infatti rappresentare una preziosa occasione di rilancio low cost dell'intero territorio. Un territorio che troppo a lungo non è riuscito a esprimere in modo efficace la propria ricchezza culturale. L'idea elaborata dai consiglieri delle spighe è quella di tracciare lungo i marciapieri cittadini una linea rossa permanente. Per tracciare appunto un percorso turistico di collegamento delle zone più suggestive della città. Come spiega ancora la consigliera Fulco, tra i diversi punti di interesse indicati e tra loro connessi mediando un filo rosso, i visitatori potranno muoversi autonomamente, sentendosi nello stesso tempo accolti e indirettamente guidati lungo un tragitto che diventa passo dopo passo fonte sicura di nuova conoscenza e di scoperte entusiasmanti. Così conclude la consigliera Fulco. Non mancheranno spiegazioni audiovisive, materiali multimediali e indicazioni relative ad eventi e servizi. Credo che tale percorso potrà costituire un profondo punto di incontro tra passato e presente. Camminare lungo la linea rossa delle origini significa costruire un futuro nuovo per San Gataldo, ricco di prospettive in continuo divenire.